Portelli Juventini e sorelle Juventine, benvenuti ai top e flop di Juventus Sassuolo. Teniamo sempre per ultimo il migliore di tutti, quindi partiamo dal terzo diciamo così migliore, Kuluzeski, Kuluzeski è entrato in campo, ha dato una sterzata alla partita, si sa che Kuluzeski quando la Juve deve giocare in ripartenza è fenomenale perché negli spazi lui si esalta, poi tra l'altro ha questo bellissimo rientrare a fondo area verso il centro che è fantastico, lo fa sistematicamente e mette sempre dei palloni velenosi alla sotterra in mezzo all'area. Quindi diciamo che Kuluzeski ha il mio applauso. Io l'ho detto ieri nell'analisi e anche nelle pagelle, a mio modo di vedere Kuluzeski dovrebbe essere fatto giocare con maggior continuità. A volte, come si dice, non tutti i mali vengono per nuocere, il fatto per esempio che Sandro non sia in campo e sta giocando a Frabotta, che è tecnicamente nettamente inferiore, ma a quanto pare Frabotta è molto più propositivo e volitivo rispetto a Sandro, quindi tutta la vita in questo momento Frabotta al posto di Sandro. Per quello che riguarda Kuluzeski, lo stesso discorso. Kuluzeski probabilmente quando non ha quadrato, gli pesta i piedi, perché Danilo è molto più ordinato, riesce a dare il meglio di se stesso. Quindi bravo Kuluzeski. Il secondo top della partita di ieri sera, che ha avuto un inizio abbastanza alternante e poi è cresciuto per il tempo che rimane in campo, perché purtroppo va gestito per motivi fisici, è ovviamente Aaron Ramsey, che ormai è quasi sempre stabile tra o i migliori o i peggiori, perché Ramsey non ha via di mezzo. O ha nei flop o va nei top, non ci sono via di mezzo. Ieri sera, per esempio, ha fatto un sacco di giocate utili. Ha tenuto la palla, ha difeso, è andato a contrastare e soprattutto ha fatto il gol che, insieme a Frabotta, ha permesso alla Juventus di vincere la partita, perché se la Juventus rimaneva solo 1-1, non so come sarebbe finita, visto che Sassuolo stava crescendo e teneva molto bene la palla. Quindi, secondo top è Ramsey. Ma, in assoluto, il top dei top, come chiamiamo sempre il migliore della partita, secondo il sottoscritto è Angelo Bianconero, perché siamo in totale accordo sui top e sui flop, questo ci teniamo a sottolinearlo, è ovviamente Danilo. Danilo, quest'anno, sta facendo stravedere. Abbiamo preso Danilo pensando che della coppia Sandro-Danilo, proveniente all'epoca dal Porto, fosse il migliore Sandro, stiamo ricoprendo che probabilmente il migliore, invece, è Danilo. Danilo sta facendo la sua migliore stagione da quando è arrivato in Italia, per cui dall'anno scorso, ma, secondo il mio modesto parere, sta giocando molto meglio anche dei due anni in City, degli anni precedenti a Real Madrid. Danilo probabilmente ha trovato la sua collocazione, ha trovato la sua dimensione e soprattutto fa delle giocate veramente di grande livello. Due fra tutte, il grandissimo gol che ha fatto un ficcante, diciamo, raso terra, pelo d'erba nell'angolino e il bellissimo lancio che ha fatto per Ronaldo, che ha fruttato il 3-1. Quindi diciamo che la partita di domani sera, sì, ciao, di ieri sera, scusate, l'ha quasi vinta da solo Danilo con la collaborazione di pochi altri, perché, ripeto, Klusjeski e Ramsey sono top perché abbiamo deciso di metterne tre, ma in realtà avremmo dovuto mettere soltanto Danilo, perché diciamo che mediamente la squadra ieri sera ha giochicchiato. Diciamo che non ha fatto brutta partita, ma non ha fatto neanche una grandissima, diciamo, prestazione. Quindi, vi do appuntamento ai top flop di Inter-Juventus, perché non faremo, lo dico prima, i top flop di Juventus Genoa di Coppa Italia, per cui vi aspetto lunedì prossimo, quando faremo appunto i top flop, sempre di questa rubrica, di Inter-Juventus. Fino alla fine Forza Juve, Forever and Ever, Cougar Halles, Eterno LeCR7, e adesso passo la parola ad Angelo Bianconero per i flop. Ciao, a te Angelo! Ciao Max e ciao a tutti gli ascoltatori della rubrica Top e Flop. Nella partita di ieri, devo essere sincero, alcuni calciatori, nonostante il risultato positivo, non mi hanno convinto particolarmente, ma inizio subito con i tre flop. Partiamo da dietro, reparto difensivo. Tra tutti, devo dire che Bonucci non mi ha convinto particolarmente e ho deciso di assegnargli il primo flop. Non mi ha convinto né nella partita di ieri contro il Sassuolo, ma neanche nelle partite precedenti. È un po' di partite che lo vedo in calo. Saranno le troppe gare consecutive? Sarà la stanchezza? Oppure sarà l'assenza di De Ligt? Manca De Ligt e stranamente il reparto difensivo traballa. Secondo me questo non è un caso e secondo me è proprio De Ligt a reggere in piedi praticamente un intero reparto. Bonucci si sente un po' spaisato con al suo fianco De Miral, nonostante Danilo comunque fa un'ottima prestazione. Però il primo flop sicuramente Leonardo Bonucci. Passando successivamente al centrocampo, devo dire che Rodrigo Bentancur nuovamente non mi ha convinto. Perché non mi ha convinto? Innanzitutto perché è un calciatore che non riesce a concludere una partita senza farsi ammonire. È incredibile. Nella partita col Milan non solo si è fatto ammonire, ma rischiato anche di farsi espellere. E se non fosse per Pirlo che lo ha sostituito, praticamente qualche minuto dopo aver visto un intervento brusco non sanzionato dall'arbitro con una seconda munizione, Bentancur probabilmente si sarebbe fatto espellere qualche minuto dopo. Ecco che anche nella partita di ieri contro il Sassuolo, Rodrigo non ce la fa e deve per forza fare un fallo da cartellino giallo. E quindi Pirlo nuovamente lo sostituisce. Penso che la sostituzione sia oltre che per il giallo anche per una scelta tecnica. Perché secondo me Rodrigo ieri non ha brillato. Passiamo adesso all'attacco. Perché sì, oggi c'è un flop praticamente per ogni reparto. Cristiano Ronaldo nella partita di ieri è stato completamente assente. Dal primo tempo all'ottantanovesimo minuto. Devo dire che una delle peggiori prestazioni di Cristiano Ronaldo dall'inizio di stagione ad oggi. Nonostante al novantesimo si sblocca e fa il gol del 3-1. Il gol che chiude definitivamente la partita. Gol che però non basta secondo me a rialzare la prestazione che fino ad allora era assolutamente negativa. Anche perché Cristiano era totalmente fuori dal gioco. E lo sappiamo. Noi tifosi viventini da lui ci aspettiamo tanto. Ma è normale aspettarsi tanto da un calciatore che nella sua carriera ha vinto 5 palloni d'oro. E penso che questo sia tutto. Ciao Max e ciao a tutti gli iscritti. Grazie a tutti.